Ragazzi comunque fate schifo con un applausi, è una verità, è una verità, giusto, vero? No, vedi uno dietro al bancone, un applauso, ragazzi il Davide Ottipiti al bancone, è colui che prende tutti i gruppi a suonare qui dentro, qualsiasi cosa prendete per la bocca. E' un brano nuovo che abbiamo appena scritto, e si intitola Busciando le porte del Pardigio, la gantina in un'italia. Siamo tutti avesse la voglia di venire a attaccare, a attaccare. Siamo tutti. 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 E' una band per l'enchesima vota Ha la chitarra Ma non gli piacciono proprio i Manza Roses Mr. Mirko G San Pietro La G era la sua ex E' un po' mai ex E' il cazzo Che hai detto? Ha il cazzo A basso Mr. Mirko Vidal Ma che cazzo sta qua? Ha la chitarra autistica Gesù Cristo Sulla sua ex croce Mr. Mamone Casani Ma che cazzo sta qua? Ma che cazzo sta qua? La laurea auta al conservatore Bravo! Le regalano le lauree ormai Le possono prendere chiunque La laurea ad honorem La laurea ad honorem E' basso l'oramia Passo l'oramia Ma che cazzo sta qua? Ma che cazzo sta qua? Hai voi ritmi Ma che cazzo sta qua? 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 La laurea alla ore La laurea ci sarà! Ma che cazzo sta qua? Ma che cazzo sta qua? La laurea ci sarà? Nanna... La laurea... EAU Sottotitoli a tutti Na na na, he no, 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 Oh yeah